Ascolti, io mi sono rotto i coglioni, a me mi interessa solo se c'è la trombare, c'è la trombare, c'è la trombare, l'educazione è questa, e a voi mi hanno insegnato l'educazione di fare due, tre, quattro, cinque telefonate non per i coglioni della gente, porco Dio, Dio merda, Dio lupo, Dio maiale, ne voglio un, se ne vuoi un altro continuo, vitupera, vitupera, porca madonna, vitupera, vitupera, io sono gentilissimo, molto gentile sono, mi reputo molto gentile, porca madonna, va bene? Nonna, digli qualcosa, vai, nonna così esagerato però, eh? Nonna, nonna, esagerato o no? Lina! Nonna, 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 nonna. Grazie.